Buonasera, ben ritrovati. Un nomade 47enne di origine bosnia che è stato arrestato a Bologna dalla polizia per tentato omicidio incendio doloso e anche danneggiamento. Ha piccato infatti il fuoco al camper dove vive con la sua famiglia nella periferia della città mentre all'interno si trovava la figlia 18enne che si accingeva ad andare a dormire e alla quale avrebbe anche tentato di impedire di mettersi in salvo sbarrandole la porta dall'esterno. La ragazza è comunque riuscita a mettersi in salvo passando da una delle finestre ed è uscita in colome dal camper ed è andato invece tutto distrutto nell'incendio. La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito quest'oggi un sequestro preventivo per un importo complessivo di poco superiore ai 2,8 milioni di euro. Nei guai sono finiti due soggetti riminesi risultanti essere amministratore di fatto e di diritto di una società per azione operante nel settore della distribuzione automatica. È emerso che l'azienda formalmente domiciliata a Rimini ma in realtà operativa a San Marino era totalmente sconosciuta al fisco non avendo presentato alcuna dichiarazione dei redditi dell'IVA per gli anni dell'imposta dal 2009 al 2012 e anche per il quanto riguardi il 2014. I particolari dalla nostra redazione di Rimini. Max operazione anti-evasione della Guardia di Finanza scattata questa mattina tra Rimini e Repubblica di San Marino. Le fiamme gialle hanno effettuato una serie di sequestri preventivi per evasione di imposte di quasi 3 milioni di euro. Nei guai l'amministratore di diritto di un'azienda che opera nel settore dei distributori automatici. Una riminese di 27 anni che in passato si era fatta notare come partecipante a Miss Italia e incoronata Miss Riccioni. Contra lei finita indagata anche la madre. L'azienda di distributori automatici, secondo quanto emerso dall'indagine della Guardia di Finanza, era formalmente situata nella Repubblica di San Marino ma di fatto con sede a Rimini anche se completamente sconosciuta al fisco italiano. Dal 2009 al 2014 infatti non erano mai state presentate le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA. L'inchiesta delle fiamme gialle era partita da una segnalazione inviata alla direzione provinciale di Rimini dell'Agenzia delle Entrate effettuata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Chioggia che aveva scoperto l'esterovestizione della società per gli anni di imposta dal 2009 al 2014, basandosi anche sui relativi dati forniti dal computer dell'anagrafe tributaria e sulle risposte ai questionari inviati ai soggetti economici che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la stessa impresa per gli anni di imposta che sono stati controllati. L'Agenzia delle Entrate di Rimini ha esaminato il contesto ha ritenuto sussistenti le irregolarità segnalate ed ha emesso l'accertamento trasmettendo la procura di Rimini per la valutazione sul piano penale e anche quello tributario. L'autorità giudiziaria, concordando con i risultati delle indagini, ha emesso un sequestro per un ammontare equivalente alle imposte vase calcolate in complessivi 2,8 milioni di euro. Le fiamme gialle, come riporta anche il quotidiano online Rimini Today, hanno sequestrato i beni in Italia, una villa a Comignano in via Calastra e alcuni conti correnti risultati però quasi privi di fondi e nella Repubblica di San Marino, vetture di grossa cilindrata e altri conti correnti. Le imposte sono state calcolate su un ammontare complessivo di 12 milioni di euro di materia imponibile non dichiarata al fisco italiano. Altra operazione della Guardia di Finanza, questa volta invece a Pinarella di Cervia dove il titolare di un negozio è stato denunciato a piede libero dagli agenti della Guardia di Finanza di Cervia appunto per una serie di violazioni. Vendeva numerose maglie da calcio e gadget con marchi contraffati, delle più importanti squadre di calcio italiane, molte paie di occhiali da sole riportanti i loghi contraffati di prestigiosi e griffi. Inoltre il negozio era completamente sconosciuto al fisco non avendo presentato la dichiarazione dei redditi nell'ultimo bienio. Gli oggetti contraffati che sono stati confiscati erano oltre 250. È stato condannato l'eregastolo dalla Corte di Assise di Bologna Nicola Nanni accusato dell'omicidio della madre pensionata 78enne venuta più di 16 anni fa nella casolare dove viveva sulla penino bolognese dove fu trovata morta con il cranio fracassato. La Corte presieduta dal giudice Michele Leone ha accolto la richiesta dell'accusa PM Stefano Orsi. L'indagine dei carabinieri inizialmente archiviata senza colpevoli fu riaperta poi nella 2008 con l'analisi di alcuni oggetti tra cui una cetta trovata ripulita nella legnaia vicino al casolare sulla cui lama c'erano tracce riconducibili però alla vittima. Inizierà a metà giugno il servizio di treni da Monaco di Baviera a Rimini in virtù dell'accordo firmato tra Regione Emilia Romagna e la Deutsche Bahn finalizzato ad incrementare ulteriormente il flusso di turisti tedeschi verso la costa romagnola. Obiettivo superare i 3 milioni di turisti provenienti dalla Germania raggiunti nel 2015. Servizi. La Romagna e la riviera Adriatica tornano a guardare al mercato tedesco. Forte dei circa 3 milioni di tedeschi presenti in Romagna l'anno scorso, la Regione Emilia Romagna punta a rinverdire i fasti degli anni 70 e 80, quando in estate la costa romagnola si trasformava in terra di conquista turistica di tantissimi tedeschi grazie all'accordo sottoscritto con la Deutsche Bahn in virtù del quale ogni settimana dal 17 giugno fino al 10 settembre due treni Neuro City collegheranno con un viaggio di circa 8 ore Monaco di Baviera a Rimini. Da qui i turisti tedeschi, grazie ad un servizio navetta, potranno poi andare da Cattolica a Cervia con visite anche all'entroterra. È stato un lavoro intenso che si è concluso con un accordo che porterà una via treno i cittadini tedeschi che vogliono scegliere la riviera romagnola. È vero, il treno arriva fino a Rimini ma di fatto arriva in tutta la riviera poiché abbiamo strutturato un transfer che porterà il turista che sceglie il mezzo di trasporto treno che arriva velocemente da Monaco in riviera per poter raggiungere poi le varie destinazioni, i vari alberghi della riviera molto velocemente. Quindi non è soltanto questa offerta di trasporto e di offerta del treno che sarà a un basso costo sicuramente con l'abbattimento totale del costo per i bambini, quindi le famiglie che arriveranno avranno già un benefit già dal momento della loro partenza ma anche il transfer che li porterà direttamente all'albergo. È un'offerta turistica che abbiamo voluto proprio perché abbiamo sottolineato il fatto che già in autonomia il mercato tedesco ha risposto già nella stagione passata in maniera importante diventando il primo per il mercato straniero. Quindi incentiviamo ancora di più l'offerta turistica. Sono 163 candidati sindaco che domenica 5 giugno si sfideranno per le 50 fasce di primo cittadino in Emilia Romagna in 220 liste. Sono i primi numeri diramati dal servizio statistico della notte, dalle prefetture e dai comuni interessati. 34 sono donne in due centri a Gaggio Montano e nella Bolognese e a Formignana nella Ferrerese sarà sicuramente eletta una donna non essendosi candidati uomini. In cinque piccoli comuni c'è solo un aspirante sindaco mentre in un caso un candidato aspira al suo terzo mandato. Si è parlato di investimenti invece finanziamenti, solidità, innovazione delle banche nel corso del convegno organizzato da Confcommercio per l'Italia di Ravenna. Svolto sia Ravenna appunto ieri è un'importante occasione per fare chiarezza sulle nuove regole comuni a tutti i paesi europei per prevenire e gestire le crisi delle banche ma anche per commentare i dati dei depositi delle famiglie e delle imprese ravennati in questo caso nelle banche del territorio. Allora sentiamo. Le attività commerciali più che mai hanno bisogno di snellezze e operatività in tutte le operazioni che siano perché si trova di fronte ad una situazione economica nazionale veramente come non si era mai vista prima. Poi è anche il discorso di quando uno lavora che risparmia e secondo anche le esperienze che si sono state in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi si sono viste che uno risparmia e poi non sa come affrontare, non sa dove mettere, non sa dove investire ma soprattutto non sa se sono al sicuro. Per quanto riguarda le richieste dei prestiti sono il doppio rispetto alla regione solo quelli della nostra zona qui di Ravenna. Sì, è il discorso di prima, il discorso è positivo perché comunque se c'è una richiesta di credito vuol dire che si sta muovendo qualcosa, vuol dire che non si è ingessati, non si è fermi ma si vuole assolutamente muovere il discorso del credito, della richiesta di credito ed è anche per questo che noi chiediamo, oggi avremo anche la Confiter, quindi la Confidi regionale, il presidente della Confidi regionale dove, il nostro presidente della Confcommercio, dove andiamo proprio a chiedere una maggior, come dicevo prima, una maggior senellezza perché comunque di burocrazia ce n'è già tanta, ne dobbiamo sopportare, sopportare veramente tanta in quello che è il quotidiano quando si parla con l'amministrazione, quando si parla con diverse situazioni per aprire un'attività e quindi vogliamo al momento di chiedere un prestito per essere più operativi vogliamo che sia in effetti con una certa facilità si possa accedere al credito. Finora c'è stato il bailout, cioè le banche venivano salvate da altri, con il belini invece prima bisogna tentare di salvarle con se stessa, cioè con se stessa vuol dire con i propri azionisti, cioè quindi chiedendo sacrifici a tutti pur di salvare la banca, poi eventualmente chiedere anche aiuti aggiuntivi. Il belin è che gli azionisti della banca devono fare la propria parte, se non bastano i azionisti anche una parte dei risparmiatori, se non basta questo può intervenire anche il fondo centrale, questo è un po' il sistema, tutto ciò principalmente per non avere aiuti di Stato. L'Appennino e le aree protette della nostra regione festigiano il 2 giugno l'undicesima edizione della Giornata Verde, un progetto regionale dell'Unione prodotto Appennino e Verde per valorizzare e far conoscere le bellezze della grande polmone verde della nostra regione. Per tutto il giorno e per l'intero weekend il pubblico potrà partecipare a passeggiate, escursioni in barca, in bicicletta, a cavallo, degustazioni gastronomiche, laboratori per bambini, concerti. La Giornata Verde è inserita all'interno del cartellone di eventi iniziative dell'Itinerando Emilia-Romagna, il cartellone Trekking Weekend Camp Estivi e vacanze nei parchi più belli dell'Emilia-Romagna. La novità del 2016 sono oltre le 170 iniziative anche nell'Appennino Tosco-Romagnolo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Ed è stata intitolata invece a Filippo Raciti, ispettore capo della polizia che fu ucciso allo stadio di Catania il 2 febbraio del 2007, alla fine di una partita Catania-Palermo dagli Utrassa del Catania, l'arena della Rocca di Montefiore. Alla cerimonia era presente Marisa Grasso, vedova a Raciti e una delegazione del SAP con in testa il segretario regionale Andrea Longhi e il vice segretario provinciale Giuseppe Urbinati, ricevuti dal sindaco di Montefiore Conca. Si è svolta ieri sera la prima semifinale di Chef Divino, la sfida culinaria lanciata dal Divino Caffè di Lugo, gestito da Alex Ancarani, a colpi di ricette a base di prodotti del territorio e riservata a 16 coppie. Il 7 giugno si sceglierà la seconda coppia finalista che si contenderà il titolo nell'ultimo atto che avverrà il 14 giugno. Sentiamo allora dalla voce di uno degli organizzatori del concorso, Gabriele Tassinari, coadiovato in questa idea di successo da Mattia Malpassi, com'è andata la serata di ieri sera che sta procedendo e come sta procedendo la sfida. Chef Divino è un concorso di cucina premi e abbiamo iniziato con 16 coppie formate da due persone che si sono sfidate sia partendo dagli ottavi di finale, andando giù fino ai quarti e tuttora siamo arrivati alle semifinali e sono rimaste quattro coppie, due delle quali si sono sfidate ieri sera. Ieri sera erano Giorgio e Ricci Maccarini e Greta Salvatore, che tra l'altro erano madre e figlie, contro Patricia Melandri e Antonio De Bionda. E' stata una sfida molto difficile perché ogni volta, passando dagli ottavi, quarti e semifinali, abbiamo sempre aumentato di più la difficoltà, dando una lista di ingredienti sempre il più tardi possibile, fino a ieri alle semifinali, i concorrenti hanno avuto una lista di ingredienti un'ora prima dell'inizio della prova e anche con un tema che sicuramente non si aspettavano perché hanno fatto un tema molto particolare di una cucina spagnola, quindi si sono trovate in difficoltà ma sono state veramente bravi tutte e due le coppie. Ha avuto la meglio Patricia Melandri e Antonio De Bionda, i quali sarà la finale il 14 giugno. Intanto il 7 di giugno saranno le altre due coppie a sfidarci, che saranno Nevena Tazic e Isabella Maglioni contro Andrea Babini e Francesco Ternavasio. Il 7 avremo questa seconda semifinale e sicuramente come ieri sera se ne vedranno delle belle perché è stata veramente una sfida molto entusiasmante, anche chi ha partecipato, c'è stata molta suspense se il livello di piatti era veramente molto alto. E segnaliamo ora invece con piacere un nuovo intervento dei giorni scorsi di salvataggio operato dai volontari del Centro Fauna. Il Pettirosso di Modena ha corsi questa volta ad Argenta nel Ferrarese per soccorrere un capriolo caduto in un canale non in grado di risalire le sponde in cemento. I volontari giunti sul posto hanno notato che l'animale aveva tutte le zampe piene di escoriazioni, gli zoccoli sanguinanti e consumati e si trovava in epotermia in forte stato di shock. I volontari dunque sono riusciti a recuperare l'animale, ad avvolgerlo in una coperta adagiandolo su una hamaca su cui poi ha compiuto un viaggio verso il Centro Fauna dove in questi giorni prosegue il suo processo di guarigione, un operato che necessita anche del vostro 5x1000 come ci ricordano i volontari del Centro Fauna, il Pettirosso di Modena. E ora noi passiamo alle previsioni del meteo per domani, vediamo cosa ci attende. Un promontorio di origine africana porta con sé bel tempo e caldo per i prossimi giorni. Domani avremo cielo parzialmente velato per il transito di nubi alte e sottili nel pomeriggio locali e modeste annuvolamenti, in rialzo le temperature minime attorno ai 15 gradi, massime comprese fra 22 e 28 gradi. I venti saranno deboli da sud ovest sui rilievi e a regime di brezza in prossimità della fascia costiera, il mare sarà calmo. Anche per queste sere è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia dell'approfondimento di quest'oggi dedicato a sport e stile di vita. Se ne è parlato al bagno Fantini Club di Cervia, in compagnia della gota del mondo del turismo e dello sport, tra cui anche Malagò, il presidente nazionale della CONI. Una buona serata e arrivederci domani, sempre alle ore 20. Grazie a tutti.